La prima cosa che faremo con il salario è che facciamo questo prima di bollirlo, certo? Io pulisco così, ok, pulisco così, I put in water and lemon, oh, see water and lemon, we gotta write water and lemon, put this cassettino, little piece, dentro l'acqua con limone, e anche l'acqua che metto a bollire ci metto un po' di limone, che rimangano bianchi, l'acqua fredda o l'acqua calda? Fredda ci metto un po' di limone e faccio bollire, e poi ci metto questi con il sale, e un pochino, un pochino, 20 minuti, poi scolo, nella padella il burro, le faccio rotolare e poi sopra il parmigiano, basta. Avanti scolo, before cooking, dentro la farina. Dopo bolliti, scolati, quando sono asciutti passi nella farina e poi in padella, with butter. With butter, ok. With butter, ok. Ok. And then we add a little salt. Butcher, eh, salt in the... When you boil the water. In the boil the water. Si, ok, right. And then parmesan, and that's it just in a frying pan. Oh, se vuoi vedere la cosa mi piace. Si, grazie. 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 Grazie.